buonasera tifosi viola questo è il vostro bella canadese gabriele video velocissimo pre partita di fiorentina benevento prima di tutto ragazzi iscrivetevi al canale seguitemi sui social appunto facebook e soprattutto instagram e trovate lì anche i link dei video e delle live tra l'altro grandissima live di riserva con grandissimi ospiti asso di roma beppe bianconero ragazzi anche i gobbi si ospitano da noi perché mi piace essere sportivo avere un po le opinioni di tutti poi il grandissimo luca dello zoccolo duro e otis tifosissimo dell'atalanta è ottimo youtuber anche lui seguite pure loro partiamo appunto con una breve analisi di questo match di domani che mi preoccupa abbastanza perché sia il benevento che la fiorentina vengono da risultati negativi benevento ha avuto la possibilità di avere la maggior parte dei giocatori quindi di allenarsi in zaghi e magari riuscito un po raccogliere le idee e allenarsi bene giocatori purtroppo la fiorentina con i nazionali che rientravano è riuscita ad avere appunto il nuovo mister bandelli riuscito avere giocatori solo ed esclusivamente per un giorno e mezzo due perché la maggior parte dei nostri nazionali sono tornati l'altro ieri o appunto giovedì appunto venerdì o giovedì quindi diciamo è stato forse è stato un po' un problema però a livello di rose non ci dovrebbero essere problemi nel senso che noi siamo più forti del benevento e quindi io mi aspetto comunque una vittoria benevento che comunque secondo me ha una squadra abbastanza bilanciata un buon centrocampo anche se il loro centrocampista più forte secondo me il nostro ex Dabo sarà fuori perché è stato trovato positivo al al punto al covid 19 quindi non ci sarà e gli faccio anche gli auguri di una buona guarigione di rientrare presto perché il covid non si augura a nessuno assolutamente quindi ritorna presto e rimettiti Dabo come dicevo una squadra in crisi di risultati però a me Inzaghi piace bravo ha fatto giocare il benevento anche molto bene alcune partite benevento che però prende diversi gol perché è una squadra diciamo che attacca molto che appunto diciamo proprio quella come natura il gioco non è una squadra che si chiude che fa catenaccio una squadra che gioca pur nonostante siano neopromossa e quindi tende a scoprirsi quindi io credo che la Fiorentina possa anche sfruttare quello e trovare gli spazi per segnare quindi la squadra si scopre appunto il benevento una squadra che a cui mancherà anche Iago Falch e quindi anche loro hanno delle piccole defezioni da noi quello che posso dire che abbiamo avuto appunto un nuovo mister che ci ha allenato per due settimane che ha allenato la squadra per due settimane il grande coach Prandelli e si parla di moduli in questi giorni Prandelli in un'intervista ha detto che i moduli il modulo non è tanto importante tanto l'interpretazione da parte dei giocatori poi e su questo mi trovo d'accordo sono contento non ha escluso nessun modulo perché adesso i giornali dicono che si utilizzerà il 4-2-3-1 il 4-3-3 però io non sarei così convinto che Prandelli soprattutto per questa prima partita si sposti molto dal modulo che utilizzavano prima Montella e poi Iachini nella Fiorentina dell'anno scorso all'inizio di quest'anno non dico che utilizzerà il 3-5-2 come modulo fisso però credo che possa per questa prima partita ancora utilizzare quel modulo perché i giocatori erano abituati così e soprattutto i nazionali sono rientrati per pochissimi giorni e quindi magari non conoscono ancora nuovi moduli nuovi schemi del di Prandelli però vedremo molti giornali parlano di 4-2-3-1 qualcuno parla anche di 4-3-3 ma non mi risulta che Prandelli abbia mai giocato col 4-3-3 almeno alla Fiorentina la scorsa volta i suoi moduli erano il 4-2-3-1 e il 4-1-4-1 quindi non so dove prendono dove prendono l'informazione dei del 4-3-3 ma tant'è si sa i giornali i giornalisti tendono sempre a dare qualche notizia buona ma qualche notizia totalmente sbagliata e qua torno appunto alle parole di commisso io speravo dopo questo dopo il cambio allenatore dopo questa pausa nazionale di due settimane speravo veramente che si potesse arrivare a questa partita in un clima disteso un bel clima non mi aspettavo che Rocco parlasse speravo di no perché purtroppo quando parla l'ultimo momento fa sempre un po di danni e diciamo destabilizza un po l'ambiente non quanto i giornalisti lo fanno ma anche lui un po perché magari il suo italiano che non è perfetto comunque dice qualcosa un po fuori dalle righe e l'ambiente gli addetti ai lavori giornalisti si scatenano appunto dicendo anche delle cose riportando anche delle cose che non sono vere o comunque non sono state dette in quella maniera dal nostro Rocco quindi io sono un po preoccupato anche perché come posso dire il clima secondo me non è dei più distesi c'è un po di tensione un po di attesa per per vedere appunto la fiorentina la nuova fiorentina di Prandelli un po di tensione perché commisso è abbastanza ai ferri corti con la stampa fiorentina e con qualche politico fiorentino quindi staremo a vedere io credo che alla fine giocheremo con un 4 2 3 1 con ovviamente Dragoschi in porta al centro Pezzella che recupera sempre in extremis quindi Pezzella Milenkovic ai lati Caceres sembra favorito rispetto a Lirola sulla destra mentre Biraglia al posto fisso sulla sinistra a centrocampo i due di centrocampo Pulgar e Amrabat l'insostitutivo di Amrabat e i tre della tre quarti saranno Ribery a sinistra Castroviglia al centro e a quanto pare sembra Quame in vantaggio su Caglion sulla destra Caglion che è appena rientrato da due giorni dal dal covid e quindi ci sta che parte dalla panchina con in attacco un Cutrone sembra in vantaggio rispetto a Vlaovic nelle ulti da quello di uno giornale però non lo so a me Cutrone non dispiace sembra che non dispiace nemmeno a Prandelli perché cerca un uomo veloce un po' un uomo alla Gilardino un uomo d'area di rigore e quindi potrebbe essere lui l'incaricato per questa prima di Prandelli al Franchi vediamo un po' io credo alla fine l'attaccante titolare sarà Vlaovic per quello che mi riguarda però se lui riesce a rivalutare Cutrone senza pensare a questo discorso del riscatto e quindi deve fare meno presenze di quelle che è stato battuto per non essere riscattato appunto sembra che questa preoccupazione non ci sia più e che Prandelli lo possa utilizzare liberamente quindi anche lì staremo a vedere io ragazzi sono stanco vado a letto perché domattina voglio vedere la partita comunque un pezzo perché domani sarà alle 6.30 del mattino per me di domenica io dopo una settimana di lavoro non ho assolutamente voglia di alzarmi così presto però per la Fiorentina si fa questo ed altro io ragazzi vi chiedo di nuovo di di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto di seguirmi sui social appunto troverate trovate tutti i link in descrizione nella descrizione del canale vi chiedo di seguire la pagina pianeta viola su instagram la pagina 1926 battiti viola del mio amico Tommy grande blog veramente ferrato a livello di Fiorentina di calcio vi chiedo anche per chi parla spagnolo e interessa seguire la Fiorentina in lingua spagnola e anche il calcio argentino seguite la pagina del mio amico Marcos cercato della plata si chiama ACF la plata è un viola club situato appunto alla plata in argentina in provincia di buenos aires seguite Marcos seguite ACF la plata su instagram anche un sito internet che troverete sul suo profilo instagram e l'ultimo ma meno meno importante seguite la pagina che parla di calcio a 360 gradi cocktail di calcio su sempre su instagram appunto io ragazzi vi auguro una buona notte una buona mattinata sempre forza viola ciao